Da dove venite? Da Torino I sondri, un lago di Como E' importante mettere se stessi, metterci la faccia Perché è importante per voi essere qui? E' importante perché non crediamo che la mafia sia una cosa ristretta al sud che devono partecipare sulle scuole del sud ma crediamo che una manifestazione di base nazionale sia una cosa importante Tanti passi avanti che ha fatto la Calabria intera quindi grazie ai calabresi perché davvero sono stati straordinari hanno risposto a questo appello a stare accanto ai familiari C'è la grande partecipazione dei giovani c'è grande volontà di combattere e di liberare questa terra A chi dice meno sbirri e più mafia rispondiamo che occorrono più sbirri e meno mafia e per fare questo siamo in piazza Noi, la nostra organizzazione è presente a questo corteo con convinzione e il nostro messaggio è quello di ripartire dal lavoro Lavoro come strumento di coesione sociale come motore per l'emancipazione come elemento per superare le disuguaglianze Oggi guardando in faccia ognuno di noi passandoci questi sguardi con questi ragazzi quelle scritte ci sono già più quelle scritte sono passate ma sono passate perché la storia li cancella e oggi è un pezzo di storia per la Calabria e per l'Italia Agostino Pantano per l'AC News 24